Il centro-sinistra in Regione Avruzzo sta definendo gli atti da presentare nel ricorso elettorale, i cui termini, secondo quando si è appreso, scadrebbero il 25 marzo prossimo, per chiedere l'attribuzione di sette consiglieri regionali, anziché dei cinque che gli sono stati assegnati all'esito della proclamazione degli eletti da parte della Corte d'Appello dell'Aquila, seguita alle elezioni regionali del 10 febbraio scorso, che ha incoronato il centrodestra guidato dal presidente Marco Marsiglio. Non si apprende dall'entourage di Giovanni Legnini, candidato governatore del centro-sinistra, sconfitto e ora consigliere regionale. Alla coalizione civica e di centro-sinistra, che ha ottenuto il 31,29% dei voti, sono stati attribuiti cinque seggi, ai quali si aggiunge quello dello stesso Legnini, mentre al Movimento 5 Stelle, che ha avuto il 20,20%, ne sono stati assegnati sette. Secondo gli addetti ai lavori, di area di centro-sinistra, la incongruenza è dovuta ad una non corretta interpretazione della legge elettorale, e quindi del metodo di riparto, in un contesto in cui si rilevano profili di incostituzionalità. Subito dopo le elezioni, Legnini ha parlato di violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza al voto. Materialmente, a depositare i ricorsi, saranno i primi dei non eletti in ciascun collegio elettorale, che hanno il quorum più alto e che quindi entrerebbero in consiglio regionale in caso di accoglimento. In particolare, secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di Pierpaolo Pietrucci, in provincia dell'Aquila, ex consigliere regionale del PD, Luciano D'Amico, in provincia di Teramo, ex rettore, candidato con la lista Legnini-presidente, Donato Di Matteo, in provincia di Pescara, ex assessore regionale, candidato con la lista Abruzzo-Insieme. E Paola Cianci, in provincia di Chieti, candidata con la lista Progressisti liberi e uguali.